parliamo oggi del topolino 34 37 iniziamo amici bentornati sul canale bentornati su recenso la videorubrica di libri fumetti manga film e telefilm nella puntata di oggi parliamo finalmente di un topolino che è in corso d'uscita in realtà è uscito la settimana scorsa ma noi siamo sempre di una settimana in ritardo per sopperire alle mancanze di poste italiane va bene comunque parliamo di questo volume e lo facciamo come sempre nelle sue storie e poi nei suoi disegni la prima storia che troviamo è pk zona franca primo episodio storia che in realtà prende già da subito tutto il sapore i toni tipici di una narrazione di pk infatti è una narrazione molto serrata veloce e rapida probabilmente io mi trovo un po in difficoltà con questo tipo di storie perché sono molto più possiamo dire americanizzanti non solo nel disegno che vediamo dopo ma proprio anche nello stile di narrazione e poi con la presenza di tanti personaggi e tanti nomi io che magari non ho una conoscenza del passato delle gesta di molti di loro e poi soprattutto anche di quello che è accaduto e quindi del perché alcuni si comportano in un certo modo e così via dicendo ho difficoltà ovviamente a capire cosa succede nell'immediato qui semplicemente sembra più una specie di prologo perché vediamo pk intento assieme a uno a scoprire chi c'è dietro una sparizione e uno strano piano che viene messo in opera di cui però ovviamente loro non sanno ancora nulla ma che noi vediamo all'inizio di questa narrazione messo in opera appunto da delle losche persone staremo a vedere quindi più avanti cosa ci dirà questa vicenda la sciurma del sole nero secondo episodio vagabondi dello spazio questa storia ci porta in una narrazione che sembra essere presa un po da ispirazione da tutti i film e telefilm fantascientifici d'epoca soprattutto anni 70 80 non solo per il disegno che vediamo dopo ormai è una sottolineatura che devo sempre fare ma proprio anche come sapore della narrazione sembra fuoriuscire probabilmente dall'esperienza avuta con start up terzo che a me è piaciuto particolarmente qui si prende quindi a pretesto un'ambientazione quanto più classica della fantascienza nella quale quindi vediamo questo equipaggio del sole nero capitanato quindi da topolino che nella puntata precedente è stato sbaragliato e buttato lontano dal sistema solare da una meteorite da un asteroide e quindi la vicenda si concentra su come topolino cerchi in tutti i modi di tenere il pugno chiuso il pugno duro sulla guida di questa missione e soprattutto le difficoltà che incontra e quindi anche un poco di retroscena della fiducia che inizia a mancare in alcuni elementi dell'equipaggio la storia come ho detto prende tanto il sapore di quelle tipiche classiche della narrazione fantascientifica mi è piaciuta particolarmente al momento che giro questo video mi manca la lettura del primo episodio per cui non so in realtà come è partito tutto però stando a questo sono curiosissimo di sapere cosa succederà più avanti perché mi sembra di tornare veramente tanto indietro nel tempo uno stile vintage non solo visivo ma soprattutto narrativo bellissimo newton e pico in viaggio nel sapere musica maestro newton pitagorico è ancora a lezione da pico de paperis ma dopo sei ore di lezione non ce la fa più ha bisogno di una pausa e quindi pico ovviamente capisce sempre che per pausa la pausa deve essere non tanto ricreativa ma ovviamente sempre con il cervello acceso e infatti si concentra proponendo al suo allievo sulla tematica della musica mettendo quindi a confronto il modo con il quale la musica è nata o si è sviluppato i vari generi e come quindi funzionano nel corso del tempo una storia particolarissima molto carina anche se ovviamente breve che ci permette quindi di arrivare sul finale senza quella tipica e solita di atriba tra i generi preferiti ma lascia il libero spazio al lettore di scegliere quale sia il suo preferito e io ovviamente patteggio per pico de paperis sulla musica classica gamba di legno il maestro del terrore storia molto molto breve nella quale gamba di legno mostra sgrinfia quelli che sono un po i suoi intenti e tentativi di rinnovarsi e non lo fa solamente quindi come camuffamenti mascheramenti ma anche come modi di fare e di agire come un ladro messo a nuovo tante buone intenzioni che vengono poi colte in fallo nel momento in cui in scena entra trudi che ci conduce così a un finale molto divertente che praticamente però smonta tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento facendo così spezza quindi tutta la tensione creata fino a quel momento dandoci occasione quindi di gustare un momento ironico e divertente proprio sul finale le ultime due storie in realtà sono la prima e la seconda parte del quarto episodio di zio paperone e il centunesimo canto io non ho letto la terza parte al momento per cui faccio finta di niente mi concentro su questa anche perché viste le difficoltà incontrate proprio nella puntata precedente mettiamola così il nostro gruppetto paperino paperone qui co qua lucilla il professor quagliaroli dopo essere stati quindi gabbati imbrogliati e messi in pericolo tentano la rimonta per ritrovare finalmente questo centunesimo canto rimettendo quindi anche in moto l'investigazione saranno proprio i più giovani che non si mettono a piangersi addosso e non demordono saranno proprio loro a dare quella sprint finale a questa ricerca ricerca che però sembra terminare tra una parte e l'altra di questo quarto episodio quasi con un nulla di fatto come se quindi tutto stesse per arrendersi e finire con un nulla di fatto ma con l'inizio quindi della seconda parte dell'ultimo episodio le cose si ribaltano e non è più quindi l'aiuto tecnologico degli occhiali creati da archimede ad aiutare i nostri amici ma sarà proprio l'inventiva l'intuizione e la fermezza di alcuni di loro a dare quindi l'ultimo sprint a questa vicenda una vicenda che sin dall'inizio mi è piaciuta particolarmente che ha tenuto sempre alta la sticella non solo quindi della tensione narrativa ma anche dell'interesse del lettore un interesse che quindi non è mai scemato ha sempre sorpreso con colpi di scena e un'indagine se non facile da seguire dato lo stratagemma tecnologico ma comunque bella da leggere non potevamo ovviamente anticipare i personaggi perché è un'indagine inventata fittizia e gli elementi che ci sono ci vengono presentati a favore di quello che devono raccontare veramente un bellissimo esperimento riuscitissimo queste storie così dove si va a recuperare la memoria di uno dei tanti artisti e personaggi del passato tra i più importanti non solo quindi dell'arte pittorica ma anche ovviamente di quella della lingua dante alighieri è un modo di raccontare che mi piace veramente tanto perché ci dà modo proprio anche attraverso il modo col quale viene disegnata di guardare indietro nel nostro passato e di riscoprirci ottimo lavoro questo per me è il modo più sbagliato di fare le copertine perché non si avvicina minimamente a quello che è lo stile che mi piace classico della disney mi dispiace tantissimo questi colori così provocatori così confusionari e poi una linea troppo presente troppo spigolosa poco morbida fanno sì che praticamente non sia il genere che mi piace di più nella disney una copertina che dovrebbe essere accattivante probabilmente perché in allegato inizia la raccolta del robottone qua dietro del gadget ma non mi piace veramente non mi piace parliamo quindi del disegno di pk che per fortuna è diverso da quello in copertina ed è un disegno molto moderno e allo stesso tempo però si mantiene fedele alle proporzioni classiche dei personaggi rese con una linea sì moderna ma molto morbida che caratterizza benissimo quindi i volumi aiutata anche dalla colorazione ma appunto sempre con questo stile questo sguardo rivolto a qualcosa di più supereroistico americano non solo quindi nella resa dei volumi e dei colori ma soprattutto anche nell'impaginazione nelle tavole e nelle vignette vignette e scene quindi che prendono impaginazioni e impostazioni molto dinamiche molto fresche ma allo stesso tempo molto confusionarie perché ci sta una gran quantità di dettagli soprattutto quindi attraverso il colore che fa quasi impazzire l'occhio io non sapevo dove guardare troppi elementi troppe cose che attirano c'è veramente difficoltà però quando poi si inizia a leggere la vignetta allora diventa o meglio il dialogo allora diventa anche più facile seguire quello che accade visivamente nella vignetta perché ci si concentra su quello ma la tentazione di scendere di guardare altro c'è perché ci sono veramente troppi elementi il disegno invece del sole nero sembra essere uscito da un passato molto molto vintage non solo per il modo con il quale viene stilizzata la linea ma soprattutto anche per la colorazione oltre che per lo stile che viene dato ai personaggi al vestiario e alla rappresentazione dello spazio ma è soprattutto la colorazione una colorazione che perde quindi quelle campiture a tinta piatta per prendere le campiture a retino ed è proprio quel fatto del retino l'uso di questo colore così puntinato mettiamola così si dice retino che mi fa pensare a qualcosa di veramente datato in combinazione con ovviamente il tipo di narrazione che ci presenta quindi uno sguardo veramente indietro nel tempo che però devo dire la verità funziona molto bene a differenza magari di start up terzo che sembra guardare più nello specifico lo stile narrativo e visivo alla star trek qui invece funziona benissimo perché è un prodotto a sé stante però voglio vedere in futuro cosa ci dirà prima di sbilanciarmi ulteriormente anche se forse già l'ho fatto ancora una volta il disegno di pico e newton è un disegno molto moderno ha una linea decisamente presente che la maggior parte delle volte rischia di staccare i personaggi tra loro e con gli sfondi rendendoli quasi degli sticker è un peccato questa cosa perché anche se il disegno riesce a creare delle belle volumetrie con questa linea così presente queste si appiattiscono però anche se le scene sono piene di elementi questi elementi sono resi con poche linee quindi ovviamente tutto il disegno è molto leggero si legge molto facilmente aiuta tanto quindi anche la velocità della lettura molto carino è il disegno dato a gamba di legno che riesce quindi a creare dei bei volumi a mettere su dei personaggi che hanno una bella presenza e soprattutto una caratterizzazione dei volti e delle espressioni che funziona tantissimo probabilmente la storia se fosse stata più lunga ne avremmo gustato di più di questo stile ma proprio nell'ultima vignetta quando tutto si capovolge prende questa area così ironica e comica sono proprio le espressioni a passare questo stato e mi è piaciuto veramente tanto per gli ultimi due episodi o meglio le ultime due parti del quarto episodio su Dante Alighieri il disegno non cambia è un disegno come abbiamo visto alquanto moderno che però mantiene fede alle proporzioni dei personaggi ma quello che è più interessante ancora è che non si stanca di mostrarci e di offrirci scorci e paesaggi di questa Italia dantesca del tempo dell'epoca un modo bellissimo come ho detto prima di raccontarci il passato del nostro paese attraverso il disegno guardando quindi indietro nel tempo anche in questo caso però nonostante ci sia tanto da raccontare a livello visivo le linee sono poche pulite quindi ci danno la possibilità nonostante ci siano molti dettagli di leggere le scene le vignette in semplicità senza far appesantire quindi la lettura e rallentare la lettura stessa di tutta la vicenda questo è quello che penso di questo numero del topolino fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste storie e di questi disegni quali sono quindi quelli che vi sono piaciuti di più e quelli meno vi aspetto nei commenti qui sotto ditemi la vostra e se questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel mi piace e condividendola con i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione mi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.re-censo.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono Dario questa è recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronte a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney